Tutti gli anni è così, arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. L'uso del vaccino influenzale in Italia continua a scendere. Pensi che ormai ha raggiunto i livelli dell'inizio degli anni 2000. Se si prende in considerazione tutta la popolazione, c'è stato un decremento relativo di 6 punti percentuali in 5 anni. Quest'anno la campagna è iniziata da poco, ma il trend sembrerebbe confermarsi negativo. Lei quest'anno il vaccino l'ha fatto o ha intenzione di farlo oppure no? Io non l'ho fatto e non l'ho mai fatto. Come mai? Una scelta? Una scelta perché fortunatamente non ho mai perso l'influenza e non mi sento di farlo. Cosa pensa? Secondo lei perché c'è questo calo? Addirittura siamo tornati a livelli del 2000, quindi 15 anni indietro. C'è una diffidenza nei confronti della sanità? Si pensa che non siano... Sinceramente mi fa una domanda che non riesco a rispondere perché non avendolo mai fatto non mi sono mai interessato se indubbiamente il vaccino farà qualcosa, però non so la reazione della gente. Precauzioni prende durante la stagione invernale per evitare l'influenza, visto che non si è mai ammalato, ci racconti? No, nessuno. Guardi, fortunatamente non ho mai perso l'influenza, il signore guarda giù e vado avanti così, ecco, con la mia vita normale. Non l'ho mai fatto. Per mia fortuna ho 73 anni e non ho avuto mai problemi di questo genere e ho rinunciato per questo. Quali tipo di precauzioni prende durante l'inverno per evitare l'influenza? Nessuna. Già prendo altre medicine per altri problemi. Cosa pensa del fatto che c'è stato questo calo tremendo nel numero di persone che hanno scelto di fare il vaccino? Beh, onestamente, insomma, c'è stato un allarmismo l'anno scorso, se non vado errato, e quindi questo ha scoraggiato parecchia gente. Io, onestamente, non l'ho mai fatto, quindi non ho problemi, ecco. No, non ho mai fatto vaccini in vita mia. Come mai? Perché mi sento abbastanza forte e non ho bisogno, penso. Quando l'avrò bisogno, lo farò. Cosa pensa del fatto che consigliano continuamente di fare questi vaccini? È tutto un interesse commerciale, per il mio conto, il mio modo di pensare. Adesso consigliano anche i bambini più piccoli di fare? Decideranno le mamme per il bene dei loro bambini. Lei cosa farebbe al posto di queste mamme? Ho avuto anch'io il bambino, ma non l'ho mai vaccinato. Ho fatto solo quelli obbligatori e basta.